Minima lavorazione, utilizzo corretto del digestato, macchinari all'avanguardia e guida satellitare. Così l'agricoltura di precisione fa bene al terreno e all'ambiente. Ma cosa vuol dire minima lavorazione e a cosa serve? Serve sicuramente per ridare la fertilità e un grande apporto di sostanza organica al terreno che negli ultimi 50 anni con l'avvento della meccanizzazione della chimica a basso costo e quindi con un grande utilizzo della stessa, appunto la sostanza organica sia un po' depauperata. Minima non vuol mica dire solo lavorare in superficie il terreno, ma che la macchina lasci almeno il 40-50% del residuo culturale precedente in superficie. Tutto questo è possibile grazie alla guida satellitare e al geoposizionamento che permettono di dosare perfettamente i nutrimenti dove ce n'è più bisogno, anche nell'utilizzo del digestato. Anche nel digestato o nel liquame stesso il segreto è quello di non mandare in atmosfera il buono che c'è dentro, cioè la parte azotata. Quindi bisogna interrare immediatamente il digestato e interrarlo in modo scientifico, intelligente, cioè usando gli strip per fare la semina del mais oppure delle altre attrezzature per fare delle semine a tutto campo. Comunque l'uso di pompe volumetriche, l'uso di attrezzature che fanno minima lavorazione nello stesso tempo interno dei digestati, facendo anche una mappatura della quantità di prodotto distribuito, sono le nuove tecnologie che ci permettono appunto di mantenere e di ottimizzare il tutto. Queste tecnologie permettono anche l'utilizzo di meno acqua di irrigazione, perché il terreno diventa più ricettivo e quindi ha bisogno di minori quantità. Un ruolo importante nei mesi invernali arriva proprio dal digestato. Negli ultimi due o tre anni che abbiamo visto che la siccità sta cominciando a dare dei problemi anche nella parte invernale dei primi mesi dell'anno, quindi febbraio-marzo, cosa succede? Che l'apporto del digestato, del liquame nei cereali a paglia, per esempio, è molto importante perché oltre che apportare sostanze nutrienti, apportiamo anche una piccola quantità di acqua. L'esempio classico è che se avessimo distribuito le stesse unità di elementi nutritivi con del concime chimico granulare, avremmo corso un doppio pericolo. Il primo è che magari in una settimana di vento e sole la parte nutritiva, la parte azotata si sarebbe liberata in atmosfera con un danno economico da parte della cultura e ambientale da parte dell'azoto che va in atmosfera. In più non avremmo mai apportato dell'acqua, acqua che comunque in febbraio sarebbe impossibile apportare perché non c'è per l'irrigazione. Quindi sicuramente utilizzando in modo giusto e con una tecnologia giusta il digestato o il liquame abbiamo ottenuto due risultati ottimali.